Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. E' scattata ieri la 69esima edizione del Taormina Film Fest con un primo grandissimo evento. Ci racconta tutto Lucio Di Mauro. Sono stati comunicati ufficialmente i nomi degli ospiti italiani e internazionali che arriveranno a Taormina per la 69esima edizione del Taormina Film Fest in programma dal 23 giugno al 1 luglio. Sul Blue Carpet, allestito quest'anno in Piazza 9 Aprile, sfilerà un parterre di eccezione. Ecco solo alcuni dei nomi della Rose dei talent annunciati. Harrison Ford, Amber Third, Keby Lem, Jacqueline Fernandez, Bella Torno, Adriana Lima, Placido Domingo, Adria Ariona, Edoardo Noriega, Toni Servillo, Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Davide Minnella, Marco Perego, Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Caterina Guzzanti, Sara Baccarini, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Roberto Andò, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Fabio Rovazzi, Luca Calvani. Nuove sorprese verranno inoltre comunicate nel corso della settimana sul sito ufficiale canali social del Festival. Anche se con poco tempo, grande lavoro del direttore esecutivo e co-direttore artistico Barrett Wisman e del co-direttore artistico maestro Beatrice Venezzi. La Kermes è stata presentata in conferenza, presenti insieme ai direttori artistici anche la sovrintendente della Fondazione Ester Buonafede e Nicoletta Mantovani, presidente della Fondazione Pavarotti. Parte questa 69esima edizione dell'Età Urmina Film Fest e si cambia sicuramente volto. La cosa mi fa piacere, direttore Venezzi, cosa ci aspetta soprattutto stasera ma poi questa lunga settimana dedicata all'arte, alla cultura e alla musica? Beh è più di una settimana in realtà perché cominciamo stasera con il Film Fest e poi si prosegue direttamente con il Terminarte Festival che comprende opere liriche, spettacoli di prosa, di danza, concerti sinfonici, per cui veramente un cartellone composito che va avanti fino al 18 di agosto. Per quello che riguarda stasera e questa settimana, stasera cominciamo con questo grande evento dedicato a Luciano Pavarotti. Ringrazio tantissimo Nicoletta Mantovani e la Fondazione Luciano Pavarotti appunto per questa collaborazione sia per il concerto di stasera che per quello che riguarda la scelta di giovani cantanti da inserire appunto all'interno della nostra programmazione, delle nostre opere. È stato un lavoro che personalmente mi ha dato e mi sta dando una grandissima soddisfazione. Per quello che riguarda stasera sarà un evento, credo di poterlo dire, non si dice mai prima di un concerto, però straordinario già soltanto per i nomi che sono coinvolti. Vittorio Grigolo, Aida Garifullina, Placido Domingo, Marcello Alvarez, Mario Biondi, Andrea Griminelli, i giovani appunto della Fondazione Pavarotti, per cui insomma ci sono tutti gli elementi per un'inaugurazione in grande stile. E poi vi lega un'amicizia sicuramente particolare, Nicoletta. Assolutamente sì, io ho una grande stima di Beatrice, sono onorata la sua amicizia, devo dire che questa collaborazione su Taormina per noi come fondazione è importantissima, è molto prestigiosa, è un ritorno per Luciano in Sicilia, lui l'ha amata tanto, il fatto che ci sia un tributo in un festival così importante a lui, fatto da amici e da giovanissimi cantanti e da un direttore bellissimo e giovanissimo che lui avrebbe amato sicuramente tanto, è veramente importante, è una cosa molto bella che ci rende molto orgogliosi, stasera si ricorderà Luciano attraverso le tappe della sua carriera, fino ad arrivare al Pavarotti and Fans che rappresentava un po' la voglia di Luciano di portare la lirica a tutti, perché lui voleva costruire un futuro per i giovani della lirica, ma anche un futuro per il pubblico del domani, voleva che l'opera fosse sempre più amata anche dai giovani. Il talento del grande tenore è stato celebrato dal vivo insieme ai suoi affezionati amici e colleghi artisti sul palco del Teatro Antico di Taormina nel corso del galà Pavarotti Forever, una carmesse realizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia in collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti, nel quale molti illustri ospiti, tra cui Placido Domingo, Marcello Alvarez, Vittorio Grigolo, Aita Garefullina, Mario Biondi e Andrea Griminelli, si sono alternati alle voci dei nuovi talenti promossi e sostenuti dalla Fondazione Pavarotti, il soprano Floriana Ciccio, i tenori Giuseppe Infantino e Paolo Nevi, il baritono Ettore Plei. A dirigere la Taormina Art Festival Orchestra è stata il maestro Beatrice Venezzi. Grazie a tutti.